Ok ciao a tutti, allora stiamo concludendo questi due giorni di festa, nati per caso l'anno scorso con la festa della castagnata, quest'anno che hanno assunto un significato più importante perché cominciando da venerdì ricordando l'anniversario della morte di Don Marino, primo parroco di questa parrocchia, poi la festa del ciao e poi oggi che è la festa di Cristo Re. Quindi abbiamo messo dentro tante belle cose ricordando tante emozioni, iniziando proprio con la festa del ciao e che Giacci ci racconta? E niente, questa festa è stata una bellissima festa perché è stata piena di emozioni con i ragazzi che hanno fatto qui il torneo per i più piccoli e poi niente, qui abbiamo allestito un po' i confiabili, comunque un po' di gioco per tutti, tanta gioia. Il tema quest'anno è circondato di gioia quindi niente, siamo divertiti un sacco, una bella festa uscita fuori. E niente, passiamo alla parola? All'interno di queste due giorni abbiamo messo anche un memorial per Ettore Grilli. Adesso qui c'è Dino, suo figlio che ha raccolto un po' l'eredità di Ettore, quella praticamente di calcare i campi sportivi e magari di giocare con tanti bambini piccoli del passato, del presente e magari anche in maniera simbolica del futuro. Sì, abbiamo sfruttato questa manifestazione per ricordare mio padre che ha dato tanto al calcio di Portodascoli e sono felice di aver dopo quattro anni, cinque anni dalla morte di mio padre, aver raggiunto questo scopo di organizzare un torneo appunto per mio padre. Abbiamo chiamato le società di Portodascoli con la categoria 2008-2009. È stata una bella festa, una bella manifestazione dove ho visto i ragazzi che si sono divertiti, si sono divertiti i genitori e ci siamo divertiti anche noi. Per cui un grazie a tutti quanti. Io voglio dire che la cosa che ha unito tutti è quella praticamente che diciamo il fil rouge di questo evento, di questa festa, tutto riesce perché abbiamo anche il karaoke, perché noi abbiamo voluto impostare questa cosa costruendola sul rapporto familiare. Allora questo è un gruppo di ex giovani, di giovani che si ritrovano insieme per il gusto dello stare insieme e di fare le cose in maniera proprio del tutto familiare, amichevole, tant'è che ci divertiamo facendo questa cosa. Siamo numerosi devo dire, devo dire grazie a tutti quelli che ci collaborano, qui c'è anche Gabriele che ci dà una mano, ma lui per tutti da elettricista, cuoco, muratore, siamo tutti tuttologi e tutti facciamo qualcosa, ognuno magari ci divertiamo veramente ma soprattutto coinvolgendo anche le mogli. E quello è fondamentale anche perché sotto la distribuzione sono loro, i ragazzi, i bambini che magari giocano, insomma è lo spirito giusto, la parrocchia accomuna tutti e la parrocchia è una famiglia, è quello che cerchiamo di trasportare noi, no Gabriele? Perfetto, tutto tu e non c'è nulla da aggiungere. Ancora due ringraziamenti, uno al parroco Don Pio e l'altro a Don Roberto che pazientemente ci segue nonostante la sua giovane età dimostra sempre una grande saggezza. Grazie a tutti.